Estate 2005, riavvolgiamo il nastro perché c'era da ricostruire nel Pescara, dalle cenere in una retrocessione dolorosa, quanto immeritata, a mio avviso, allenatore Gianni Simonelli, pensate a Maurizio Sarri, ma c'è lo zampino di tuo fratello. Io chiesi a mio fratello la squadra che nel suo girone l'aveva impressionata e lui mi disse che l'unica squadra era la San Giovannese, gli sembrava molto ben organizzata, che sapeva cosa fare in campo e lui ha sofferto molto in quelle due partite e mi disse che era Maurizio Sarri. Poi, quando poi le cose devono andare bene, il direttore della San Giovannese era un mio ex giocatore della San Benettese, Bignone, ci siamo incontrati, venne a Pescara, ci siamo incontrati e mi disse che lui aveva un gruppo di lavoro eccezionale, a cominciare dall'allenatore, il secondo preparatore atletico, preparatore dei portieri e un nutrizionista. Mi disse perché non ci prendi a tutti quanti? Una parola. Parlai col presidente e mi disse se ti senti di fare questo, fallo. Approfondi i colloqui, anche con Sarri, e decisi, anche se non sapevo ancora cosa andavo incontro, e prendemmo tutto il gruppo. Gran parte del merito. Lo Zampino, come abbiamo detto precedentemente, e Divo Iaconi, che allenava il Pisa, lo ricordiamo, mentre Sarri aveva vinto l'anno precedente il campionato con la San Giovannese in C2 e fece molto bene in C1 alla guida della squadra toscana. Arriva Sarri, un bel campionato, tra l'altro una squadra rinnovata. Quel Pescara riuscì a centrare aritmeticamente la salvezza con tre turni d'anticipo. Ricordo ancora la vittoria col Cesena. È chiaro che Sarri è cambiato molto. Il primo Sarri giocava in un modo, poi c'è stata una trasformazione clamorosa. Sì, secondo me la trasformazione è stata ad Empoli. Poi lui non... io gli riproposi verso aprile, mi pare. Eravamo a cena a Francavilla. Gli riproposi il contratto e lui mi prese tempo. E gli ho detto, vabbè, posso aspettare un'altra quindici giorni, poi devo pensare a un altro allenatore. Quindi sbrigati. L'aveva chiamato il Livorno, che era in A, Spinelli. Passarono quindici giorni e io senza dirgli niente ho preso l'altra allenatore. Dopo qualche giorno mi chiamò, mi disse dai incontriamoci. Guarda, mi sento che ci incontriamo perché ho già preso l'allenatore. Quindi, ma dai non scherzare. No, non scherzo. Ci siamo sempre detti le cose in faccia. Ballardini era. Sì, Ballardini. E quindi prendemmo Ballardini e poi lui... E lui andò ad Arezzo, ricordo, ad Arezzo sostitui Conte. Sostitui Conte, sì. Sostitui Conte, fu esonerato, successivamente lo stesso Sarri. Ho avuto altri problemi di esonero prima e dopo, dopo Pescara. Stagione 2005-2006, qualche aneddoto. Ne hai uno in particolare che ti piace così rivelare a distanza di tanti anni? Io ho preso i Matteini come punta importante in Serie B e non lo facevo a giocare mai. Arrivamo alla partita con la Triestina in casa a Pescara. Vincemmo 5-0, mi pare. 5-1, 4 gol di Matteini. E fece 4 gol di Matteini. Entrando dalla panchina. Al posto di Camaratti. Bravo. Il martedì loro si stavano allenando, io mi misi a vedere l'allenamento. Finito l'allenamento, lui viene da me e dice ma non mi devi dire niente. E ho detto no, che ti devo dire? Abbiamo 5-1, siamo andando bene. Che ti devo dire? E ci fu un po' di silenzio. Prima che andassi via, mi disse hai visto Matteini? Sì, io l'ho visto, tu l'hai visto. Bellissimo. Ed è fidale. Per fidale. Mi siete fatto una risata. Sì, tutti e due. Però Sarri aveva un vizio, quello di fumare. Lì un altro aneddoto importante perché il quarto giorno, terzo o quarto giorno di ritiro andai in ritiro, non c'ero mai stato e lui era nel cerchio di centrocampo con i suoi collaboratori che parlava e fumava. Sai quando Sannebbia l'ha visto perché non avevo mai visto un allenatore allenare e fumare? Mi avvicinai, feci allontanare i collaboratori e gli disse piano piano senza farti accorgere prendi il suo pacchetto di sigarette, l'accendino e piano piano spegni la sigaretta, valla alla panchina e io ho detto ma questo mi reagisce. Invece non disse niente e lo fece e tornamo a centrocampo facendo finta di niente. E gli disse oh ma come stai a San Giovanni e Valdano? Ma che stai in promozione o a San Sovino? E gli ho detto che ci stanno le televisioni, ci stanno le cose, ma io non ho mai visto una torre a fumare in mezzo al campo mentre si allena. E lui non disse niente. Un'altra aneddota se proprio vogliamo dire tutta. Appena arrivato chiamò i giocatori e li voleva far dipingere le scarpe tutte di nero. Già lui si vestiva per scaravanzia e a me già non mi andava bene, ma comunque e voleva, e io ho detto ma questi prendono i soldi dagli sponsor, ricordo che fai dipingere. Ma quando stai in promozione? Insomma c'è stato tutto una serie, aveva la mentalità ancora chiaramente da dilettante e piano piano poi però è cresciuto, ma lui al di là di queste cose dal carattere un po' scontroso, lui... E secondo me è cambiato nel corso degli anni. Secondo me sì, secondo me sì e poi si è migliorato perché lui pensa 24 ore alla squadra, non c'è famiglia, non c'è niente. È arrivato tardi nel calcio che conta, però adesso sta bruciando le tappe e secondo me per come lo conosco io, per la persona schietta e leale che è, merita tutto questo. Ci sono stati dei passaggi a vuoto, ma è normale che sia così nel percorso di un allenatore. Stiamo parlando del 2011-2012, viene ingaggiato Sarri dal Sorrento, sempre in C1. Il 14 dicembre del 2011 viene esonerato, la squadra è al sesto posto, partita con una penalizzazione di due punti. Stagione 2012-2013, Andrea Iaconi è DS del Brescia e Sarri viene ingaggiato dall'Empoli. Vigilia della trasferta di Lanciano, era ad un passo dall'esonero, Sarri 4 punti 9 partite, l'Empoli vince 3-0 e comincia una clamorosa rimonta che porterà l'Empoli alla finale play-off, persa poi con il divorno di Davide Nicola e poi lo vinse, vinse il campionato con l'Empoli, vincendo anche a Pescara 2-1 a dicembre. Come cambiano le cose dall'oggi al domani in poco tempo? Eh sì, da lì e poi ad Empoli probabilmente è stata la squadra che lui ha fatto giocare meglio. L'idea di calcio di Sarri è cambiata nel tempo. Il primo Sarri, quello di Pescara, stagione 2005-2006, era un Pescara completamente diverso da quello attuale. Ricordo che la palla era sempre in aria, come si dice, in gergo. Sponda, no, di buon figlio, tiro di Matteini o di Cammarata, era questo il tipo di gioco. Lui, la squadra sapeva cosa fare in campo, già da noi. Come organizzazione. Non era bella da vedere come adesso, come è stato il Napoli, come è stato l'Empoli. Quindi lui probabilmente attraverso i suoi studi, la sua abnegazione al lavoro, è riuscito a migliorarsi. Un giorno mi disse tra Tognozzi e Pizzarro, Pizzarro della Roma. E come no? Cileno. E cileno, bravo. Io faccio giocare sempre Tognozzi. E gli disse, vabbè, ma non è mio che te ne torni a Sanzovino a allenare. Allena a Sanzovino. Era da ridere. E lui per dire, per le mie idee, cioè Tognozzi fa quello che dico io, Pizzarro magari non lo fa, privilegiava il giocatore che metro per metro faceva quello che diceva lui. Quindi anche se uno era fortissimo e di qualità, se non faceva quello che diceva lui non giocava. Quindi invece adesso probabilmente ha messo insieme un po' le due caratteristiche. Fatto una sintesi, diciamo. Fatto una delle due caratteristiche. Sicuramente è più elastica. Adesso vuole anche giocatori di qualità, quindi è cambiato. Allenatori normali nella media e allenatori top. Quali sono quelli normali in generale e quali top? No, se parliamo, io quando parlo di allenatori top parlo di, secondo il mio punto di vista chiaramente, può anche non valere niente, ma di allenatori, parlo di allenatori che hanno talento, perché un conto è avere talento e un conto è che sai allenare. Gli altri, il 90% degli allenatori sono, secondo il mio punto di vista, allenatori normali. Poi uno è bravo ad allenare e magari non capisce quasi niente dei giocatori o viceversa. Chi includiamo tra i top? Tra i top Allegri. Allegri è il talento, cioè il talento del Galeone, il talento dei Catuzzi a Pescara, che parliamo del Pescara. Zeman anche, sì? E tutta gente che ha fatto storia, perché hanno Guargiola a talento, Clop a talento, poi ci stanno gli altri allenatori che sono bravi. Sarri a talento? Sarri non ha il talento dell'allenatore, però Sarri è bravissimo perché sa allenare sul campo, Giampaolo è bravissimo perché sa allenare sul campo, Di Francesco è bravissimo perché sono allenato, capito? E poi ci stanno quelli che sono normali. C'è un collaboratore aquilano, ex calciatore Marco Ianni, che lavora con Sarri a diverse stagioni dai tempi del Napoli e quindi ha alzato anche lui il trofeo l'altra settimana. Sarri gli disse di fare un colloquio con sto ragazzo, conosco bene i genitori che hanno casa Giulianova. Sarri ci parlò, lo prese subito, ed è bravo. Sarri lo senti ancora? L'altro giorno, io ho mandato un messaggio di congratulazioni per aver vinto, finalmente non sei l'eterno secondo e quindi ho vinto, mi devo stare zitto e lui mi ha risposto salutando tutta la famiglia. Meriterebbe di allenare la Juventus? Ma guarda, in Italia io penso che meglio di Sarri non mi pare che ci siano tanti allenatori molto più bravi, quindi secondo me sì, se poi vai all'estero e prendi Guardiola e il discorso cambia.